Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e questo è il QXBook 3 ed è un laptop da battaglia che costa solamente 230-250 euro con il link e coupon sconto che ti lascio nella descrizione del video e ti dico subito per chi è consigliato questo laptop e soprattutto per che cosa si potrebbe utilizzare e cosa no ovviamente parleremo anche di specifiche tecniche e che cosa mi è piaciuto e che cosa non mi è piaciuto in questo laptop molto leggero da 1,250 kg con uno spessore solamente di 18 mm e consiglio questo laptop come laptop da battaglia quindi da portare in giro, da mettere nello zaino, da portare in viaggio dove puoi scrivere, puoi fare videoconferenze, puoi navigare, collegare apparecchi, guardare i video tra l'altro è ottima la performance video sia su YouTube in 4K scorre benissimo non solo mi è piaciuta tantissimo anche la durata della batteria ovviamente sono andato con risparmio energetico, abbassato un pochino la luminosità mi sono fatto 6 ore di aereo con 5 ore di funzionamento perfettamente dove mi sono sparato la serie House of Cards non solo aprendosi a 180 gradi si può appoggiare come vedi, come vuoi infatti mi sono rilassato benissimo durante il viaggio in aereo perché potevo metterlo dovunque anche mentre stavo mangiando l'ho messo proprio sulle gambe e mi sono continuato la mia serie mentre stavo mangiando si può fare foto e video editing? sì, si può fare ma non lo raccomando per due motivi uno ovviamente per la performance perché si riesce a fare video editing tranquillamente in 1080p a 30 frame al secondo editare le fotografie con Photoshop è molto semplice ed è molto comodo il touchpad mi è piaciuto tanto tra l'altro e funziona molto bene infatti è abbastanza grande, la sensibilità è ottima ma l'altro motivo è che nonostante questo display mi sia piaciuto tantissimo dal punto di vista della luminosità la risoluzione dei 1080p 1920x1080 quindi Full HD IPS con schermo non riflessivo quindi molto visibile anche sotto i diretti raggi del sole ma i colori non sono ahimè calibrati benissimo certamente puoi calibrarlo se sai farlo a occhio ecco a occhio non è proprio il massimo io lo faccio di solito ci sono anche degli apparecchi per calibrare gli schermi ti faccio vedere anche velocemente una procedura su Windows per la calibrazione dei colori secondo me hanno fatto questo apposta anche perché questo computer è fatto proprio per leggere, scrivere e starci lunghe ore davanti perciò probabilmente hanno messo i colori che siano più rilassanti per l'occhio piuttosto che più fedeli ai colori reali nella scatola abbiamo l'alimentatore 12V 2A con connettore DC abbiamo il manuale di istruzioni in tutte le lingue compresa la lingua italiana il foglietto di garanzia un foglietto con le specifiche tecniche che è la prima volta che lo vedo e apprezzo tanto bene partiamo subito dalla tastiera che mi piace tantissimo è ottima per scrivere con 10 dita i tasti infatti sono spaziati molto bene la corsa dei click è ottima mi sono trovato davvero molto molto bene con la tastiera che però non è retroilluminata sì è querti però come puoi notare non ci sono le lettere accentate d'altra parte ho apprezzato moltissimo anche le varie tastiere nelle varie lingue compresa la lingua italiana in realtà questi non sono adesivi è un foglietto unico in silicone che si può appoggiare tranquillamente sulla tastiera e tenere sopra come vedi come effetto visivo è identico alla tastiera normale ma meglio degli adesivi eventualmente da attaccare sulla tastiera secondo me se scrivi con due dita va benissimo se scrivi con 10 dita sicuramente no è meglio avere gli adesivi d'altra parte se scrivi con 10 dita hai già memorizzato la posizione delle lettere e non ne hai bisogno ottimo anche il touchpad molto sensibile il dito scorre benissimo non rimane attaccato quindi è liscio anche i gestures funzionano bene ed è cliccabile sia nella parte centrale ovviamente puoi anche toccare ma puoi anche cliccare se sei abituato per esempio se arrivi da un macintosh e si può utilizzare come appena visto le due dita o il tasto destro che è cliccabile lo stesso vale anche sul tasto sinistro puoi cliccarlo tranquillamente nella parte superiore del computer abbiamo un doppio microfono devo dire che funzionano bene anche perché uno dei due ha la funzione soppressione del rumore di fondo quindi va benissimo anche per videochiamate d'altra parte la telecamera frontale è solamente da 0,3 megapixel quindi pessima telecamera ma comunque nella media dei laptop anche più costosi qui abbiamo tre luci una per il blocco dei numeri uno per il caps lock e il terzo per indicare lo stato del computer sulla parte destra e sinistra abbiamo due altoparlanti che funzionano davvero molto bene e devo dire che sono stato molto sorpreso sia dal volume più che altro dal volume che la qualità dell'audio come qualità prende 7 su 10 ma come volume prende 10 su 10 specialmente confrontandolo anche con altri computer con categoria più costosa ok vediamo la qualità audio video del QXBook 3 questo è un video su YouTube come puoi notare l'ha preso in automatico in 4k ottimo l'audio ottimo anche il video risoluzione bellissima anche lo schermo molto bello la dimensione dello schermo è di 14.1 pollici nella parte inferiore abbiamo lo slot per la SSD eventualmente se volessi cambiarla con una di capacità maggiore arriva in tre varianti che potresti scegliere direttamente all'acquisto questa qui che ho da 256 giga di memoria si può avere anche la memoria da 512 o da 1 tera il mio consiglio sinceramente è di prendere la 256 e eventualmente cambiarla direttamente tu perché come vedrai adesso questa memoria installata non è tanto veloce per quanto riguarda le porte sul lato sinistro abbiamo una porta HDMI out ed è una mini HDMI non micro né standard ovviamente non ce ne sta una standard in un computer così sottile abbiamo una porta USB 3.0 abbiamo la porta di ricarica DC purtroppo su questo computer non abbiamo nessuna USB C quindi per forza dovrai utilizzare il caricabatterie originale non hai la possibilità di caricarlo tramite USB C sul lato destro abbiamo una porta USB 2.0 il connettore jack da 3.5 per le cuffie è uno slot per una micro SD ovviamente da lettore ma potrai anche espandere eventualmente la memoria con una micro SD cosa che non consiglio perché non sono tanto veloci come le SSD e ultimamente ci sono delle SSD nel mercato più veloci sicuramente di quella in dotazione e costano anche poco una cosa che mi è piaciuta tanto in questo PC oltre alla durata della batteria è anche la durata della ricarica della batteria infatti con il caricabatterie in dotazione si riesce a ricaricarlo addirittura in un'ora fino all'80% e ci mette altri 20 minuti per ricaricare il resto che sarebbe una piccola porzione rispetto alla capacità totale della batteria e il succo del discorso quello che vorresti sapere è che una volta caricato per un'ora ti dura circa 4 ore e mezzo il QXBook 3 arriva con Microsoft Windows 11 Pro già preinstallato devi solamente seguire la procedura guidata il processore è un Intel Celeron J4125 ed è 4 core 4 thread con un clock massimo di 2,5 GHz quindi è un computer centrato sul risparmio energetico per lavoro per lungo tempo per quanto riguarda la RAM sono 8 GB DDR4 sono installate su un doppio canale quindi due banchi da 4 GB il che è buono d'altra parte il clock di queste memorie è un pochino basso sicuramente però adeguato a questo tipo di computer per quanto riguarda la memoria SSD è marchio Q256 GB come avevo detto lenta purtroppo ed è una SATA questa è la velocità che ho misurato col Crystal Disk Mark certamente essendo una SSD SATA non NVMe siamo praticamente nella media quindi non può essere veloce come una NVMe però comunque nel mercato trovi di meglio per quanto riguarda la scheda grafica è una scheda integrata Intel UHD Graphics 600 che performa direi abbastanza bene come abbiamo visto prima nella riproduzione video anche montaggio video come ho detto a 1080p e va benissimo per editing fotografico la memoria della GPU è 1 GB e vediamo una scarrellata veloce dei componenti del PC che sicuramente potrebbe esserti utile nel futuro eventualmente se perdi i driver che in realtà si reinstallano in automatico se risetti il computer direttamente e dall'interno ma se vuoi cambiare sistema operativo comunque ti potrebbe essere utile vedere tutti questi componenti ecco per quanto riguarda la connettività abbiamo la Atheros Qualcomm Dual Band quindi 2.4 GHz 5.8 ecco purtroppo non è una Wi-Fi 6 ma è una Wi-Fi 5 per quanto riguarda il Bluetooth abbiamo il Bluetooth 5.0 per quanto riguarda la calibrazione dei colori dello schermo su Windows è molto semplice basta cliccare sul tasto Windows e scrivere calibra e ti compare calibra colore dello schermo dovrai seguire la procedura guidata ecco una cosa importante riconoscere bene i colori per riuscire ad arrivare a una scala di grigi perfetta come questa qui e che non sia come questi come al solito ti lascio il link e coupon sconto nella descrizione del video e se questo computer rientra nelle tue esigenze delle quali ho parlato all'inizio di questo video lo consiglio ovviamente specialmente in questo momento durante il Black Friday che spero che mi diano mi concedano un coupon sconto super per abbassare il prezzo ancora di più è un buon computer se hai delle domande lasciale giù nello spazio commenti nel frattempo ti saluto e ciao alla prossima